Affari tuoi? È un programma televisivo italiano di genere game show trasmesso, su Rai 1 dal 2003 al 2017 e nuovamente dal 2023, in onda nella fascia dell'ex esprime time. L'ultima puntata di Affari tuoi ha regalato emozioni a non finire, con Lisa e Filomena che hanno conquistato un bottino da ben 30.000 euro. Il gioco è stato serrato. I pacchi rossi sono spariti uno dopo l'altro, lasciando sul tavolo solo quelli di fascia media. Ma la vera sorpresa è arrivata all'ultimo momento, quando sono rimasti solo due pacchi, uno da 30.000 euro e uno da soli 200 euro. La tensione era tantissima, ma fortunatamente per le due concorrenti in gara. All'interno del loro pacco erano presenti 30.000 euro. Le due sono esplose di gioia, con la produzione che ha mandato in onda la colonna sonora e i due vite di Marco Mengoni, mentre le concorrenti erano incredule dinanzi alla loro vincita. Tra i numerosi commenti dei telespettatori sui social, un tweet, in particolare, ha attirato l'attenzione per una richiesta alquanto insolita. Infatti un utente ha postato la foto di una persona seduta tra il pubblico, e ha scritto Ho visto questa persona tra il pubblico di affari tuoi del 19 febbraio 2024, concorrente Lisa con sua figlia da Campobasso. Non so perché, ma mi sembra molto simpatica e vorrei farci amicizie. Nella speranza di trovarla.